Due anni di dialogo e trattative serrate tra i tecnici e i giuristi di Autobrennero S.P.A., le due province di Trento e Bolzano, e i dirigenti del Ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture. Ora, a quanto pare, il piano per evitare almeno nel breve termine un bando di gara per la concessione dell'A22 è pronto e soprattutto pare essere compatibile con le esigenze di Bruxelles in tema di tutela della libera concorrenza. L'Unione Europea ha sempre spinto per l'indizione di un bando di gara su base comunitaria, eventualità vista con timore da Bolzano e Trento che nel caso dovrebbero fare i conti con la spietata concorrenza di colossi provenienti dall'estero, difficilmente battibili quando si parla di liquidità. Ostacoli che pare possano essere aggirati grazie anche al decreto Sblocca Italia del governo Renzi. In estrema sintesi, all'Unione Europea si propone una proroga della concessione, ora in mano ad Autobrennero S.P.A., fino al 2045. In cambio, la società che ha sede in Via Berlino a Trento si impegna a versare i 550 milioni di euro del tesoretto accantonato nei decenni scorsi e a destinarlo al cofinanziamento del tunnel ferroviario del Brennero e ad accantonare nei prossimi 31 anni oltre un miliardo di euro allo stesso scopo. Inoltre A22 dovrà versare un totale di 568 milioni per la concessione e investire un miliardo e 390 milioni di euro per investimenti in infrastrutture e tra di esse la terza corsia tra Verona e Modena. Il piano dettagliato verrà limato nei prossimi giorni prima di essere inviato a Bruxelles. La risposta potrebbe arrivare entro la fine dell'anno.